Un saluto dal Tg della Mobilità all'Eur, festa del cioccolato in Viale Europa. Ancora per oggi la strada è chiusa tra Viale Tupini e Viale Pasteur. La linea 31 nelle due direzioni devia lungo Viale Beethoven, Viale America e Viale Tupini. I bus della linea 780 provenienti dal capolinea Nervi da Viale America proseguono su Viale Tupini. I bus provenienti dal capolinea di Trassevere da Viale Tupini deviano lungo Viale America, Viale Beethoven e Viale Europa. Prevista anche una deviazione per la 771 di Roma TPL. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.